Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Dopo millenni siamo qui su FIFA perché? Perché ho deciso, come avete detto dal titolo del pezzettino prima, di accettare la sfida di questo famosissimo youtuber internazionale nel provare a fare il 190 Food Draft Challenge. Ossia arrivare a avere una formazione che con intesa e valutazione arrivi a 190. Praticamente ho provato a fare un po' di simulazioni prima su alcuni siti e no, è quasi impossibile farla sulla Play 4. Trovo se sono arrivato al massimo 185, non di più. Ovviamente poi ringrazio sempre Utfi per avermi lasciato utilizzare il nostro account, il quale lo usiamo per fare le review di alcuni giocatori. Visto che avevamo il gettone che gli aveva lasciato FIFA un paio di giorni fa. E quindi vediamo un po'. Allora, innanzitutto che modulo possiamo usare? Teoricamente i moduli migliori per arrivare a 190 non ci sono, sarebbero quelli con le doppie ali oppure la difesa a 3, non ce n'è nessuno. Quindi mi sa che di 2 a 2 cdc questo è bruttissimo, questo è altrettanto brutto, questo ancora più brutto. Ecco, fra i peggio, il meno peggio è questo qua. Quindi proviamo con il 433 di contenimento. Allora, vediamo subito cosa ci esce. Messi 99 direi che ovviamente lo prendiamo. Quindi abbiamo iniziato con Messi 99, poi una cosa che ho provato a vedere un paio di video in giro che funziona molto bene è passare alle riserve e poi fare il resto, squadra titolare e panchina. Ok, ovviamente con me non funziona un cazzo. Quindi direi di prendere per ora che andreva, giusto per aumentare un po' la valutazione generale. Vediamo adesso cosa ci esce. Ecco, io farei Neymar più che altro perché Ronaldo potrebbe magari poi dopo venirci qualche versione migliore. Spero così di non fare una cazzata ma prendiamo Neymar. E allora poi adesso vediamo cosa ci esce fuori. Ecco, ecco, cosa vi avevo detto? Ovviamente piazziamo Cristiano Ronaldo. Poi vediamo un po' cosa ci esce, cosa ci esce, cosa ci esce. Allora, Felipe Luis, Royce, Mutinio. Ah, io direi che potremmo mettere Felipe Luis in vista poi andando avanti per l'intesa. Che ci esce fuori. Allora, Di Maria, Aubameyang, Sherawi, Royce. Allora, quindi, adesso incominciamo con la rosa titolare. ATT, vediamo cosa ci esce fuori. Quindi prendiamo Griezmann. Allora, poi vediamo. Attaccante sinistro cosa ci esce fuori. Allora, eh, beh, poi direi. Ovviamente prendiamo Royce. Poi andiamo a sostituirlo subito con Cristiano Ronaldo. Ok, centrocampista centrale. Vediamo cosa ci esce. Possiamo, prendiamo lui, dai. Per sicurezza, almeno per l'intesa, va bene, così. Poi, vediamo un altro centrocampista centrale. Ecco, non c'è. Cazzo, incominciamo con le robe dove non esce una minchia. Fra tutti, almeno cambiasso fa intesa con Messi. Sì, quindi, vabbè. Krikowiak, assolutamente. Che così fa intesa sempre della bbbbb. Allora, che schifo. Nacho, eh, vabbè, per forza. Ok, era partito benissimo. Sta andando leggermente. Ma cos'è sta merda? Vabbè, eh, Gimenez, ovviamente. Ok, Pepe. Direi che è quello che ha la votazione più alta. Poi, terzino destro. Vediamo cosa ci esce. Ma cos'è? Ma dai, ma porca troia. Che schifo. Vediamo cosa ci esce fuori. Ok, 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 ok. Così, molto meglio. Prendiamo Alves. Ah, tanto, ne ho bruciato il portiere. Vabbè. Portiere. Ci esce fuori. Vabbè, c'è che poi andiamo a sostituirlo. E mettiamo Alves. Dai, cos'è sto schifo? Oh, strega. Eh, boh. Prendiamo lui che ha 76. Tanto, vabbè. Ok, poi. Vediamo un po'. Allora, ok, qua Gaia. Gaia, 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 Gaia. Assolutamente. Per ora otteniamo Gaia. Che sembra una cosa. Ma così. Uh, Iniesta. Grandioso. Ok, allora mettiamo Iniesta qua. Ok, siamo a 186. 186. Vediamo di aumentare ancora. Qui cosa possiamo mettere? Che è la votazione più alta? Verratti. Quindi mettiamo Verratti. Puttana. Allora, Bale. Ovviamente ho messo Bale. Vabbè. Mettiamo Santon, dai. Terista. Ok, pur 187. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Potremmo mettere Neymar qui. Quindi siamo ancora a 187. Per ora siamo a 184 l'intesa. Cioè, 184 totale. Però, forse possiamo ancora fare qualche ultima modifichina. Possiamo fare qualche ultima modifica. Così invertiamo. Ancora no. Come ancora 99? Ma porca Eva. Ok, ragazzi. Siamo arrivati. In totale siamo riusciti a fare 188. Non siamo riusciti ad arrivare a 190. Perché purtroppo ci è andata di una sfiga apocalittica. In difesa non abbiamo trovato assolutamente nulla. Cioè, siamo con un Argento e Jimenez. Purtroppo è andata così. Mentre in attacco tanta tanta roba. Infatti abbiamo in panchina. Abbiamo Royce, Aubameyang, Bale, Griezmann. C'è veramente tanta tanta roba. Però siamo arrivati a 188. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Quindi vi invito a lasciare tanti tanti mi piace per questo ripalesamento su FIFA. Ancora vi ringrazio i miei amici di Utfi per avermi lasciato usare il cettone del draft. Ovviamente sempre i link in descrizione come negli ultimi video per andare sul nostro canale. Ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti qua. Ciao!